Buonasera ragazze, andiamo a vedere chi è la vincitrice del giveaway, io ho segnato tutti quanti i nomi con i numeri, i numeri ovviamente vanno dall'1 fino al 107, sono come vedete sul sito random.org, quindi appunto mettiamo dall'1 al 107 e vediamo chi è la vincitrice. Alla vincitrice è Denise Blondi e ora vado a controllare se è il numero che ho segnato a una ragazza su Youtube o su Instagram. Allora, ho trovato la ragazza su Instagram appunto perché aveva il 71 e penso di aver scritto Amore il nome perché leggendo adesso c'è scritto Denise Happiness. Insomma, la vincitrice sei tu, complimenti, contattami in privato o comunque rispondemi qui con un commento e poi ci sentiremo. In caso non mi contatterà entro una settimana, massimo 10 giorni, rifarò nuovamente l'estrazione. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo giveaway che avevo organizzato, che vi abbia fatto piacere e vi ringrazio per aver partecipato. Buonanotte!